Il periodo di calcio mercato e il re dei trasferimenti è Zlatan Ibravi, che cambia squadra con una facilità impressionante. Questo lo dici tu, io sono felice di mia squadra, che qual è mia squadra non ricordo, però sono contento di vincere con PSG, che è mia nuova squadra, da scorso anno forse non ho mal di pancia o mal di culo perché ho mangiato male.